Quello che voglio di Mario Benedetti per il Festival Internazionale di Poesia di Milano nella giornata mondiale della poesia. Voglio restare in mezzo ai libri, vibrare con Rocche d'Alton, con Vallejo e Chiroga, diventare una delle loro pagine, la più indimenticabile, e da lì giudicare questo povero mondo. Non pretendo di essere impaginato, voglio pensare in bozze, con le pupille verdi della memoria franca nel breviario della notte appesa. Il mio alfabeto dei sentimenti sa posarsi su quei cari nomi. Mi sento a mio agio tra quei fogli, con avverbi che sono rivelazioni. Sillabe che mi chiedono una mano, aggettivi che sembrano balocchi. Voglio restare in mezzo ai libri. In loro ho imparato a fare i primi passi, a convivere con magagne e con soffi vitali. A capire ciò che altri hanno creato, ad essere, in fin dei conti, quel poco che oggi sono. Traduzione di Milton Fernandes